Prendo atto delle rassicurazioni da parte dell'azienda ospedaliera universitaria di Parma che il centro ausologico non chiuderà. Rimane comunque il fatto che ai genitori di diversi piccoli pazienti è stato detto che i figli saranno seguiti a Reggio Emilia. Speriamo dunque che le obbligate trasferte oltrenza siano solo provvisorie, anche se in Italia, in questo disastrato paese, non c'è niente di più stabile di ciò che è provvisorio. L'esponente di Forza Italia Giuseppe Pantano torna all'attacco dopo la polemica sollevata sul centro ausologico dell'ospedale maggiore e continua. Non è comunque stata data la risposta più importante, dice, quella chiesta al PD che governa, da quando esiste la regione Emilia-Romagna, su quali criteri di economicità ed efficienza si fondi la realizzazione di un nuovo ospedale dei bambini a Reggio Emilia quando ce n'è già uno a soli 25 chilometri di distanza, costruito a Parma con il fondamentale apporto dei privati. Ricordo, infatti, continua Pantano, che il progetto di un polo polispecialistico per i pazienti in età pediatrica di alta specializzazione, come l'ospedale dei bambini Pietro Barilla, si regge se tale struttura sanitaria ha un bacino di potenziali pazienti congruo che copra una rilevante area del territorio regionale e non solo. Sembra molto difficile credere che l'avvio di una struttura ospedaliera a Reggio Emilia, così simile a quella già esistente a Parma, non possa comportare il ridimensionamento di quest'ultima. Il dubbio quindi che i 14 milioni già messi a disposizione per la struttura reggiana dalla Regione Emilia-Romagna, la stessa che ha appena messo le mani nelle tasche dei cittadini aumentando l'addizionale IRPEF, siano mal riposti, sembra assolutamente più che legittimo, così conclude Pantano.